Carice di dolore, ma sia fatta la tua volontà, non l'ora. Pietro, Giacomo, Giovanni, svegliatevi, svegliatevi. Ormai è finito, il momento è giunto. Ecco, colui che mi tradisce sta arrivando. Arrivano Giuda e le guardie. Maestro! Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo. E voi siete venuti con sadri e bastoni come se fossero un regano. Ogni giorno ho il tempo di insegnare e non mi avete mai arrestato. Ma tutto questo avviene fin che si conta ciò che sta scritto. Grazie. 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 Grazie.